infissi in alluminio scorrevoli. ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 e proprio nelle abitazioni private ultimamente si stanno facendo aperture molto molto grandi in questo tipo di aperture l'infisso scorrevole dà il meglio di sé perché è un infisso che nasce appunto per grandi aperture a volte alcuni clienti che mi chiedono degli infissi scorrevoli nelle aperture da 150 cm quindi avremo un'altra da 75 magari alta 2 metri 40 e come gli faccio sempre una battuta è come uno che altro due metri e porta 36 di scarpe non sta in piedi l'infisso scorrevole ha bisogno di una base di appoggio sotto abbastanza grande per consentirgli la stabilità e nasce per aperture molto grandi anche finestre da tre metri quattro metri cinque metri il nostro record nel 2020 è stato 18 metri di infisso tutto completamente apribile motorizzato ecco in questi contesti l'infisso scorrevole la fa la padrona e l'infisso scorrevole in questi contesti viene scelto sempre in alluminio perché è il materiale che ti consente di fare i profili più sottili di avere la resistenza che serve per sopportare i pesi abbiamo l'aste di vetro che possono pesare 300 400 500 e anche 600 chili quindi sei quintali di vetro appoggiato sul profilato i succarelli che poi devono a scorrere questo peso quando si vanno in questi pesi gli infissi scorrevoli è bene dotarli di sistemi automatici quindi i sistemi motorizzati che con un pulsante o con il telefono attraverso la domotica si possono aprire con avere il massimo comfort e anche la massima sicurezza perché gli infissi motorizzati possono avere delle chiusure comunque blindate dei vetri blindati puoi avere la comodità la particità e anche la bellezza perché vedere un vetro senza maniglia niente che può sembrare una vetrata fissa puoi vedere apriti sesimo questa vetrata che si apre è una cosa molto bella e molto scenografica per ottenere questi risultati però non è sufficiente andare a chiedere dei preventivi al primo che capita occorrono delle consulenze personalizzate che non sempre è facile da trovare perché quando si va a richiedere un preventivo spesso i miei colleghi tirano l'acqua al proprio mulino il mio consiglio qual è? di utilizzare la consulenza con sistema Bisacchi un servizio che ho creato per aiutare tutte le persone in giro per l'Italia quelli che con la nostra azienda non riusciamo ad aiutare perché anche se siamo abbastanza grandi non siamo omnipresenti con questa consulenza puoi informare andando su www.blogbisacchi.it ti posso aiutare a scegliere la soluzione giusta l'azienda giusta e la posione opera corretta ciao e al prossimo video ciao 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 ciao